La preghiera per la pace Il servizio civile Caritas mette a disposizione 24 posti Ben trovati al nostro consueto appuntamento con il TG Web Questa settimana sono diversi gli appuntamenti che vedranno riunita la nostra diocese a cominciare proprio da sabato 28 gennaio Nella parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato alle ore 16.30 il Vescovo Armando presiderà la preghiera per la pace Sarà presente anche una famiglia ucraina che porterà la propria testimonianza Ricordiamo che le offerte raccolte saranno destinate ai progetti di Caritas diocesana rivolti agli ucraini accolti in diocesi Altro appuntamento importante sarà quello della Veglia per la Vita Proprio prendendo spunto dalle parole del messaggio dei Vescovi per la giornata per la vita 2023 L'ufficio diocesano di pastorale familiare in collaborazione con l'associazione consultorio La Famiglia Centro di Aiuto alla Vita Fano, Movimento per la Vita Fano Organizza la Veglia per la Vita dal titolo La morte non è mai la soluzione Preseduta dal Vescovo Armando in programma sabato 4 febbraio alle ore 21 nella parrocchia San Paolo Apostolo al Vallato In diretta streaming su fanodiocesi.it Per la zona della Val Metauro sabato 4 febbraio alle ore 17 nella parrocchia di Barchi sarà celebrata la Santa Messa Per la zona di Fossombrone domenica 5 febbraio alle ore 16.30 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice Per la zona di Pergola mercoledì 1 febbraio alle ore 21 in programma un momento di preghiera nella chiesa di Sant'Andrea al Corso Per la zona di Cagni venerdì 3 febbraio alle ore 21 nella chiesa di San Pietro del Monastero delle Benedettine È online il nuovo bando per il servizio civile universale L'esperienza di 12 mesi aperta ai giovani dai 18 ai 28 anni Che unisce formazione e servizio nei diversi ambiti dell'assistenza, dell'educazione, dell'ambiente e della promozione culturale La Caritas diocesana ha a disposizione quest'anno 24 posti nei seguenti progetti Abitare la comunità Marche che è un progetto di assistenza al disagio adulto per 6 posti al centro di ascolto di Caritas a Fano Pace in rete Fano, un progetto di educazione e promozione della pace per 4 posti nella sala della pace Uno spazio per noi, progetto di educazione e promozione verso i minori per 14 posti negli oratori Due posti per ognuna delle seguenti parrocchie Quindi la Gran Madre di Dio, Santa Maria Goretti, San Biagio a Cucurano, San Cristoforo, Santi Pietro Andrea a Fenile Santa Croce a Calcinelli e San Giovanni a Postola a Marotta Ricordiamo che le domande dovranno essere presentate entro il 10 febbraio alle ore 14 esclusivamente online tramite speed sul sito domandaonline.serviziocivile.it Si potrà presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede L'avvio dei progetti è previsto orientativamente tra maggio e giugno 2023 Per presentare i diversi progetti e le sedi disponibili Caritas ha organizzato diversi momenti formativi Venerdì 20 gennaio alle ore 11 e mercoledì 1 e 8 febbraio alle ore 16 negli uffici di Caritas di Ocesana in via Fanella 93 Giovedì 26 gennaio nel pomeriggio alla Mediateca Montanari di Fano dove saranno presentati i progetti di tutti gli enti che hanno posti nel comune di Fano Vi ricordiamo inoltre che per informazione è possibile consultare il sito caritasfano.it inviare una mail a giovani.caritasfano.gmail.com o telefonare al numero 338 66 21 295 Per oggi è tutto e vi ricordiamo che è possibile seguire le nostre edizioni su fanodiocesi.it fanodiocesitv.it e sulle nostre pagine social Grazie per essere stati con noi e arrivederci Grazie per aver guardato il video